Nunes perché ha votato no alla riforma del CSM? Questo è un no che è in antitesi a quello di Forza Italia dalla parte della destra, ma sicuramente è un no che sta a sottolineare quanto questa maggioranza così allargata faccia perdere sistematicamente delle occasioni per procedere verso delle riforme che non siano solo di facciata. Il punto resta sempre fermo, non si riesce a migliorare quelle che sono delle situazioni che presentano dei problemi atavici nell'Italia, quello della giustizia lo è, quello delle procure lo è, quello della magistratura lo è, eppure non si riesce a procedere. Questa maggioranza così allargata è proprio una volontà politica che nulla cambi e che non si facciano i passi necessari in avanti.